Le previsioni meteo in Sicilia per martedì 1 ottobre di Globus Television. Martedì, regime di alta pressione sulla regione. Giornata contraddistinta da generali condizioni di bel tempo, con cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Temperature massime fino a 29 gradi, valori notturni vicini ai 10 gradi nelle zone interne. 20 da nord mari. Martirreno poco mosso, Marionio mosso, stretto di Sicilia mosso.